Ben ritrovati nella casa del foot, sono Andrew e sono qui con il secondo episodio del Play for Fame Parto subito da dove ci eravamo lasciati con Mick, infatti ho acquistato un Kulu con i crediti che mi aveva lasciato L'ho trovato veramente a poco, adesso non mi ricordo esattamente la cifra, comunque scusate, mi ero dimenticato di registrare L'ho messo subito in squadra e gli ho dato una forma da 20, quella di bronzo che probabilmente, anzi sicuramente aveva trovato Mick in un pacchetto E quindi l'ho messo subito e guardate intanto la squadra, il mio primo avversario è terribile Però sono stato veramente molto fortunato perché all'inizio non ha giocato per niente Sono stato anche buono a fargli solo 3 gol perché non potevo non sfruttare questa occasione Quindi subito 3-0, go miss, go miss, go miss, mi sembra per chi tenesse conto le statistiche E a parte le stronzate, dopo il 3-0 lui si è ripreso, ha preso il mona joystick, ha fatto due passaggi E' già andato in porta, ecco non me l'aspettavo, mi ero distratto, cioè ci sono rimasto un po' così Ho detto cazzo è ora? Ora vado a perdere magari Invece no, non era fortissimo, anzi me la sono giocata abbastanza bene, ho vinto tranquillamente Anche se ho segnato qui il 4-1 al secondo tempo, ci ho messo un po' a riuscire a segnare Però chiaramente la sua squadra era la più forte, però l'avversario non era niente di che E qui, ecco, solito inserimento di Bryant, 5-1 e poi il mio avversario ha rimesso giù il joystick E l'ho fatto anch'io, non c'era bisogno di infierire Quindi 5-1 alla prima, ragazzi, date sempre palla a Gomis Se avete una squadra di questo tipo, Gomis, sfondamento centrale oppure allarga sulle fasce che si inseriscono sempre Bryant è ottimo in questi inserimenti Dopo la prima partita, con i crediti che ho acquisito, sono andato a prendere Sissoko Anzi, devo ringraziare Alessandro, che mi ha consigliato sia Sissoko sia Ankulu Perché sono veramente due ottimi giocatori Infatti sono andato a prendere Sissoko, che ha 85 di velocità, può essere un CC e non essendo brillante, costa poco Però ha anche un buon tiro, un buon dream Insomma, un giocatore veloce, scattante, che può servire in un centrocampo a 3, anzi, è sicuramente utile Quindi sono andato a prenderlo, l'ho piazzato lì sulla destra, al posto di Ferrera, ecco Che era anche un esterno, anche fuori ruolo E niente, ecco il secondo avversario Questo aveva una squadra tutta oro brillante, tranne Tourette Però non è proprio convincente come squadra Infatti in pieno tempo l'ho schiacciato, dominato, sono uscito però a segnare solo con questo grandissimo gol di Gomis Straordinario, vi lascio anche il replay, è veramente fortissimo Gomis Mikla l'ha già ripetuto un po' di volte, io continuerò a farlo Ecco, costa poco e veramente consigliato, consigliatissimo Anche, può non sembrare forte, è statistico, magari anche per il prezzo, però è veramente forte Questo è il secondo gol che si commenta solo Brian va sul fondo, palla dentro, Mounier rovesciata, perfetta Un gol che magari metterò anche in un montaggio Mi sono gasato tantissimo, vedete, mi sono messo a fare caprioli Quindi 2-0, pensavo veramente nella mia testa, partita chiusa, qualificazione in tasca Invece no, mi sono, intanto rivediamo il replay, gran gol Mi sono distratto, secondo tempo, distrazione terribile 1-2 micidiane in 10 minuti E ha pareggiato il mio avversario, ovviamente Ero incazzatissimo Qui ecco, il secondo gol si è segnando, dove l'ha messa anche lui Ero incazzatissimo, avevo buttato via qualificazione Non ci speravo, però ho continuato ad attaccare fino alla fine Infatti all'ottantottesimo, mi sembra, l'ottantottesimo, l'ottantanunesimo Segno da calcio d'angolo, mi sembra il decimo calcio d'angolo di fila La butta dentro un culù Quindi devo ringraziare comunque Alessandro Perché qui veramente pensavo di aver vinto, ormai Avevo vinto Al novantesimo ho continuato ad attaccare Infatti qui, come vedete, non c'è neanche più il recupero E ho preso gol Ho preso gol su una ripartenza un po' stupida Ho perso palla a centrocampo E è andato in porta Niente, qui è stata la partita Peggiore delle tre, secondo me Perché ce l'avevo già in tasca e l'ho buttata via Però, vabbè, la terza Sono stato sfortunato, devo dirlo Intanto, però, prima di pagare la terza partita Vi faccio vedere, ho preso Menez Anche qui ho registrato subito, appena ho visto Vabbè, qui vedete che ero all'asta Cercavo ali da mettere a posto di Brian Che era stanco, 78 di forma Mi sembrava il caso di dargli un po' di fiato E ho preso Menez, che mi sembrava forte 900, non mi sembra che l'ho pagato tanto Ho controllato anche gli altri A più o meno lì il prezzo Forse ha... costavano anche qualcosa in più E... ho venduto anche un giocatore di bronzo E... niente Questa invece è la squadra del terzo avversario Che può sembrare la meno forte delle tre Ma... vi assicuro Che era l'avversario a fare la differenza Infatti, è questo giocatore qui Ecco, Remy, quando un giocatore del genere Ti fa un gol così C'è poco da dire Però... beh, qui ero incazzato Sul... lì Sul momento però Poi, rivedendo le azioni e le cose Comunque, ha meritato lui E ha nettamente più forte Qui però, secondo me, ha sbagliato il portiere Ecco Tanto Remy è un giocatore straordinario Che sicuramente Io mica andremo a prendere Non so se già al prossimo episodio O in quello dopo ancora Comunque, appena abbiamo i crediti Lo prendiamo Perché è veramente forte E... poi anche Belanda Se tira fuori dei gol del genere Non puoi non andarlo a prendere E... qui è un gol Per accorciare distanze Menes fa vedere un po' la sua velocità Dentro Monier di testa Ecco, questo anche... Anche questo è uno degli schemi Vedete... non so se avete visto Gomis Cioè, comunque, palla Menes Che corre E l'altro esterno si inserisce Si inseriranno sempre Anche prima sulla rovesciata C'era lui in aria Non Gomis Anche Gomis Però lo troverete sempre L'altro esterno E... intanto avete visto Ho preso il 4 a 1 E... il 5 a 1 Vabbè, alla fine ho perso un po' la testa Sono uscito un paio di volte Dal portiere a caso Quindi ragazzi Questo episodio finisce qui Purtroppo non sono uscito a salire Ci penserà mica il prossimo episodio Infatti Tocca a lui la prossima E... niente Vi ricordo anche che c'è il contesto ancora Attivo Quindi scade il 31 dicembre Partecipate, mi raccomando E... Vi ringrazio per il supporto che ci state dando Comunque Anche se abbiamo iniziato da poco È sempre tantissimo Ringrazio tutti quelli che ci aiutano E... vi invito a lasciare un mi piace a questo video Se... se vi è piaciuto E... Vi lascio in descrizione anche il link Della... Della nostra pagina Facebook Su cui rimanere sempre aggiornati Quindi... Niente ragazzi E... questo è tutto Ci sentiamo al prossimo video Bella Grazie a tutti